segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te vedo bosco dove sei giorno a tutti siamo appena rientrati da cramathurst siamo andati sempre nella zona verso liman a iupil cittadina che in questo momento i carri armati russi l'artiglieria russa hanno tentato di entrare nella città c'è stata una evacuazione e poi l'artiglieria invece ucraina ha risposto al fuoco ma l'artiglieria russa ha risposto di nuovo e sta colpendo tutta l'area da liman iampil fino a sevier d'uniesc alfredo ti vediamo abbastanza ormai abbiamo imparato a conoscere anche le tue espressioni le tue reazioni ti chiediamo abbastanza colpito da quello che ci hai raccontato e da quello che hai visto quindi ti chiediamo prima di tutto come come ti senti tu qual è la condizione di sicurezza nella quale state lavorando e dal tuo racconto sembra che questa progressione che abbiamo annunciato luca ci ha letto un'agenzia di questi 40 e più villaggi che sarebbero stati presi nel donbas prende piede prende corpo io vedo roberto di matteo ma ecco ecco alfredo sì abbiamo avuto oggi la concreta prova che l'esercito russo sta avanzando e come capita quando si tratta di lunghi e larghi territori prima aziona l'artiglieria per poi subentrare con i carri armati i soldati ci hanno accennato che sono stati avvistati diversi mezzi che non posso indicare a livello numerico per motivi di sicurezza ma un numero impressionante l'esercito ucraino quindi ora sta ricreando delle nuove linee perché sanno che non riescono a controllare un'area così vasta dal giusto da da liman fino a sever di ogni è che troppo però l'artiglieria russa sta bombardando continuamente questi posti c'è stata un'evacuazione di civili e anche la parte dell'esercito ucraino si è rimosso per dire di dislocarsi per poter ridifendere queste posizioni che in questo momento sono occupate dall'esercito russo almeno nelle aree limitrofe alfredo pochi minuti fa abbiamo letto un'agenzia diffusa dal fronte russo secondo cui gli attacchi di questa notte di questa mattina avrebbero distrutto 20 magazzini di armi con armi attrezzature diciamo questo è il frutto delle operazioni missilistiche corrisponde a quello che vedi tu cioè c'è effettivamente ci sono effettivamente dei successi militari dei russi che intaccano le forze a disposizione della resistenza ucraina questo non credo che sia facile confermarlo però dato che come accennavamo con voi della redazione anche sono state attaccate spesso e volentieri le grandi aree industriali che solitamente sono predisposta a essere anche grandi magazzini dove poter contenere determinate comunque magari diventare effettivamente magazzini per munizioni i bombardamenti come ad abdica come qui a kramatorsk come a slovyansk sono stati particolarmente sui punti delle aree industriali quindi può darsi benissimo che questa fosse infatti la strategia alfredo questa mattina su repubblica c'era un reportage che in qualche modo riprende una cosa e ci hai raccontato tu anche tante volte la staffetta dell'acqua per salvare le città tu ci hai detto che gli attacchi russi erano anche su le raffinerie sugli acquedotti sulle infrastrutture vitali per questi centri del donbass anche questo tipo di attacchi continua e quindi rende sempre più difficile la permanenza dei civili di chi non partecipa direttamente al conflitto in territori nelle città come kramatorsk e slovyansk ancora la situazione è normale e c'è le sia elettricità sia c'è l'acqua però i villaggi molto più piccoli soffrono subito questi attacchi di artiglieria perché basta con una centralina o una delle tubature pubbliche venga colpita e di colpo manca comunque un bene di prima necessità che può essere il riscaldamento oppure può essere l'elettricità o l'acqua ad esempio a sevier donesk c'è anche lì il grande problema dal metà marzo proprio del poter rifornirsi di acqua la maggior parte degli aiuti umanitari anche quelli che abbiamo visto a rubisne portavano soprattutto acqua tanta acqua per le famiglie che comunque sono rimaste a vivere lì alfredo grazie